Bene ragazzi bentornati in questo nuovo video, oggi siamo qua con un video specialissimo Spumeggiantissimo Spumeggiantissimo Oggi raga andremo a fare una sorpresa a una nostra fan davvero carinissima, dolcissima, issima, issima Innamoratissima Bellissima Questa ragazza si chiama Anita, la salutiamo Ciao Anita Ha una fanpage su di noi, si chiama NeedLucaSteam Che raga è fantastica Andate a seguire, mi raccomando Fa degli edit davvero fantastici, sono fotonici Sì sono meravigliosi È quello che ci ha colpito, ha dei bei video E ci mette proprio passione, cioè si vede che proprio ci tiene E ci mette il cuore Ci segue da un sacco di tempo Ci segue penso da quando io ho i capelli lunghi Quindi potete solo immaginare ragazzi 3-4 anni fa Sì che carina Mamma mia Ho fatto pure un video per il mio compleanno Davvero raga quel video lì è stupendo Cioè è troppo bello Dato che noi siamo molto sensibili Non è che la lacrimuccia Però comunque La lacrimuccia La lacrimuccia Quindi ragazzi Allora io mi sono accordato con la mamma di Anita E oggi andremo a trovarla Adesso vi facciamo vedere un pezzettino di video Che è quello che un po' ci ha colpito E poi faremo la sorpresa A casa di Anita direttamente Un sorprise Sono emozionatissimo ragazzi È la prima volta che facciamo una cosa del genere Potrebbe anche non essere lui Esatto Ho sempre piaciuto L'ha fatta a me la sorpresa No Anche su lo fai Raga guardiamo un pezzettino del video della Nid Lucas Sii Ragazzi Guardate questo video insieme a me perché mi ha fatto veramente Emozionare Guardiamoli insieme almeno un pezzettino Ti ho sempre visto così Un ragazzino con gli occhi marroni Due enormi fossette sulle guance Ricci disordinati e capelli Lindissimi E a volte Ti immagino ancora così Oggi che di questo ragazzino Non sembrai avessero rimasto più niente Oggi Oggi vorrei dire che non so più cosa provo Vorrei dire che ti ho lasciato andare Che non sono più attaccata al tuo ricordo Ma non sarebbe la vività Cioè raga è veramente troppo carina Se avete sentito le parole Veramente sono dolcissime E la ringrazio ancora per questo video Per il mio compleanno E adesso Anita se stai guardando questo video ma penso proprio di sì Arriviamo a casa tua Ragazzi siamo arrivati Per esempio bassa voce Ma la ripeti che ci sente E nulla poi la ragazza deve nascondere lui Perché sono tipo la special guest Allora poi Luca si nasconderà un attimino Entreremo noi tre E diremo Luca non c'è Esco un barito Vediamo poi come si sviluppa la cosa Perché è tutto così Improvviso Ti chiameremo Andiamo a suonare Ma non fa nessun'altra per l'emozione Vai vai Vediamo le fredi Ci ha po mare Purtroppo Luca non c'è, non era riuscito a venire Mi spiace Che abbraccio, anche io voglio così l'abbraccio Emozione unica proprio Come stai? Ciao sorella Eccola qui la nostra Anita Bellissima Oh che c'è qua? Mamma mia, mamma mi sei emozionata Eh, sei emozionata Bella Oh, stop, stop Oh, stop, stop Tutto bene? Allora? Non mi per caso scendo. Sono poche parole qua. Ma tu? Sto finendo di piangere. La nostra fa il numero uno. La top dei top. Dalmeno non ci credo. Dall'acqua perché c'è. Ragazzi dell'acqua. No, del vino, del vino. Forse è una brindale. Allora raga? È una sorpresa. Bellissima. Ma tu in casa sei sempre col giubbino? No, dovevamo uscire. Ah, dovevi andare? Guarda un po'. Il negozio con papà. Ah. Beh, sì. E poi sono complici. Andiamo a negozio. a negozio. Esatto. Ormai non lo sapevamo già. Mamma. Dai andiamo anche noi. Esatto. Bella. È la nostra amica. E beh, mi sembra giusto. È emozionata. Bellissima. Ecco, noi possiamo andare? No. Andiamo. Ringraziamo i tuoi genitori. Sono stati complici. Ragazzi, guarda cosa ha fatto. Ha detto, non si può cosa fare. Ha fatto questa cosa qua. Cioè, è bellissima. Cioè, è fantastica. Cioè, io straduro. Ragazzi, tipo questa foto qua. Quella del Milano. Eh. Double tap. Ecco. Del 2018. Poi c'è il braccialetto. Cos'è che hai? E quello cos'è? Questo, non è il mio nome. Ok. Ditta e Luca. Che bello. Ok. Allora ti manca questo. Tieni, sfila. No, no, no. Sfila, sfila, sfila. È quello della Ceci. È quello della Ceci. Nessuno ce l'ha. Guarda. Per avermi prodattato la rosa, ma... Pusse. Ehi. 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 Ma ringrazio il paramo. Questo è fantastico. Cioè. Bu. Se sei da parole, raga. Oh, Luca che è senza parole. No, raga, bellissimo. Ma si dice già insieme alla mosca, va bene. Guardate che sono già preparato. Ti ti ti. Wow. Grazie. Ti dispiace, è vero Risa che ti dispiace. Che accoglienza. Che non mangi niente. Io no, non mangi niente. Ecco. Ma questa passione da dove cammina? Ma sarà tre anni più nemmeno. Sì, la famiglia. Sì, sì. Vabbè, forse anche quattro allora. Troppo. Quattro anni e quant'ora. Cosa è che si scatta? Beh, non c'è. Ma farci vedere il telefono. Ah sì. C'è un retroscena. Dove è ridicolo? Ero all'abattuta. L'anno scorso. L'anno scorso sì. Sì. Ale. Dieta top, raga. Top. Da grandi poteri arrivano grandi responsabilità. Mamma mia. Scappiamo! Aiuto, raga. Scappiamo, aiuto. Non ci ho visto. A se preparare. Ringraziamo! Per un'attolta è ricetta. Endna parte due poveri nelalanche. Malanze! Buonga, buonga, buonga. Ch bom… tu non puoi fare il suo pelle da grande, non puoi, non puoi, sei già recensiato sto piangendo raga, sto piangendo raga, sto attraverso la schiuma, hai capito? la schiuma per un coso così, ma dai, è fake sì, brindisi, brindisi, evviva Anita, grande Anita, che bello è buonissimo andiamo, 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 Anita, è stato un piacere, fate la sorpresa chissà, magari non sarà l'ultima che faremo di sorpresa andiamo, abbiamo preso il gusto, ce l'ho dato fare pastina, ce l'ho dato da bere anche il caffè, non so, napole panno ogni settimana, poi usano la panza così poi accendo, ok grazie mille che bella amore bella la linda cucina seguitela sull'info mi raccomando che ha fatto un botto di video e di foto bellissima bene ragazzi speriamo questo video vi sia piaciuto se fosse stato così un bel pollice in su mi ricomando seguiteci in instagram io mi chiamo lucas.official cc official marco punto e noi ragazzi ci vediamo il video e ciao belli ciao